Benvenuti nel cuore di News Mix Up. Prima di svelarvi gli avvenimenti che hanno scosso le fondamenta, chiediamo il vostro sostegno. Un semplice gesto, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale, rappresentano per noi un segno di importanza immenso. Grazie di cuore. Prima di condividere i dettagli dell'evento, vi preghiamo di darci il vostro supporto lasciando un mi piace al video e iscrivendovi al nostro canale, un gesto che per noi è di grande importanza. Oggi parliamo dell'aumento del sostegno all'interno della comunità musicale per il celebre cantante italiano Albano Carrisi, noto per i suoi brani iconici come Nel sole e Felicità. Durante questa settimana, Albano Carrisi è stato ricoverato d'urgenza in una clinica romana a causa di complicazioni legate a una malattia preesistente. Sfortunatamente, fonti vicine alla famiglia Carrisi confermano che le sue condizioni di salute stanno peggiorando rapidamente. Il cantante, che ha affrontato numerose sfide nella sua vita, sta attualmente lottando per il suo benessere. In risposta a questa notizia, i fan di Albano e i colleghi nel mondo della musica hanno manifestato il loro affetto e il loro sostegno attraverso messaggi di solidarietà sui social media e dichiarazioni pubbliche. Molte persone sperano in una pronta guarigione per questo artista che ha lasciato un'impronta indelebile nella cultura musicale italiana e nel mondo. In questo momento difficile, la famiglia Carrisi chiede rispetto per la loro privacy e ringrazia i sostenitori per le parole di affetto e amore per il cantante. Ulteriori aggiornamenti sulle condizioni di Albano saranno forniti man mano che arriveranno notizie dai medici curanti. Mentre attendiamo ulteriori notizie, vi invitiamo a condividere nei commenti una preghiera o un messaggio per Albano, augurandogli una pronta guarigione, dimostrando così quanto sia amato e sostenuto. La sua musica ha toccato il cuore di molte persone, e ora è il momento di dimostrarle il nostro affetto.